Il privilegio, come tutti i privilegi piuttosto è meritato, di prendere la parola a Narni per il Festival della Sociologia, organizzato in maniera mirabile, come sempre, dalla professoressa Caterina Federici, e per parlare di un tema di grande interesse, vale a dire il tema del rapporto fra Stato-Nazione e la società di oggi. Non soltanto questo, ma anche per parlare della frontiera, cos'è la frontiera. Io in effetti ho dovuto dire che storicamente le frontiere sono una novità relativa, vale a dire i grandi imperi dell'antichità, in particolare l'impero romano, indubbiamente è stato un impero a portato universale, dall'Atlantico all'Eufrate e così via. Gli imperi non avevano frontiere, avevano periferie, avevano meglio, avevano avamposti, cioè delle organizzazioni fortificate che in qualche modo consentivano un certo controllo. Ma l'idea di frontiera nasce tardi, nasce in Europa al termine delle guerre di religione con la pace di Vesfalia nel 1648. In base al principio, lo devo dire in latino, cuius regio, eius religio, cioè la religione di una persona è quella prevalente, dominante, nella regione in cui si trova. Ecco, di lì nasce l'idea dello Stato-Nazione con delle frontiere, con dei confini, direi, marcati, con i doganieri, con i controlli, in sostanza anche burocratici, passaporti e così via. E per oggi lo Stato-Nazione, che è questa grande invenzione del Seicento e del Settecento, lo Stato-Nazione è in crisi, è in crisi per due ragioni. In primo luogo per una ragione interna, direi endogena, ecco, perché gli Stati-Nazione di oggi, che sono quelli esistenti, ancora con poca eccezione di cui farò cenno, e non riescono, sono macchine burocratiche, macchinose, che non riescono ad avere un contatto vitale con le loro comunità di base. Quindi lo Stato, soprattutto in paesi come l'Italia, viene percepito come, se non nemico, estraneo, lontano, da sfuggire. E comunque, e questo è interessante, lo Stato viene percepito, soprattutto in Italia, come un ente, una presenza oppressiva. E allora noi dobbiamo prendere atto di questa prima ragione di crisi dello Stato, direi ragione endogena interna, ma c'è anche una grande ragione di crisi per lo Stato, e non più endogena, ma esogena, cioè esterna. Lo Stato-Nazione di oggi non ha le risorse finanziarie, economiche, generale, per dar corso ai grandi investimenti strategici che oggi sono necessari. E infatti noi vediamo come c'è stata, c'è questo tentativo di creare strutture sovranazionali, sovrastatali. Si pensi negli Stati Uniti, per esempio il NAFTA, che congiunge Messico, Stati Uniti e Canada. Si pensi all'Unione Europea, io ho avuto, a proposito dell'Unione Europea, la grande fortuna di conoscere alcuni fra i promotori, direi più che promotori quasi profeti, esito a usare questo termine perché ha una risonanza religiosa che indubbiamente non fa parte del nostro discorso, che è tutto socio-politologico. Però uomini come Robert Schumann, Jean Monnet, e poi soprattutto Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, il loro straordinario. Io credo di averlo ricordato questo agli amici di Narni in occasione della manifestazione, dell'incontro, del seminario organizzato dalla professoressa Federici, proprio a Narni, credo di aver ricordato come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, confinati per antifascismo, a Ventotene, riescono a pensare, a redigere e a lanciare un manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Vale a dire non, e questo bisogna metterlo bene in chiaro, che è alla base dei problemi di oggi, della crisi di oggi, non un'Europa delle patrie, come sosteneva il generale De Gaulle, un uomo di grandi meriti, è chiaro, tuttavia ancora prigioniero del mito della grande... la grande... No, un'Europa delle patrie è una contraddizione in terminis, perché gli Stati nazionali, le varie patrie, hanno interessi comuni, ma anche interessi divergenti, e in mancanza di una struttura sovranazionale viene meno il punto di intermediazione, di compromesso fra questi interessi. Quindi non l'Europa delle patrie, ma l'Europa come autentico potere europeo, sovranazionale, l'Europa come Stati Uniti d'Europa, che solo allora noi avremmeno. Oggi dobbiamo riconoscere che il Parlamento di Strasburgo, il Parlamento europeo, eletto direttamente dagli europei, però poteri consultivi. L'Unione e la Commissione europea di Bruxelles, sì, rappresenta l'Unione europea, ma è ridotta di fatto, o meglio, nella percezione comune dei paesi europei, degli europei, dei cittadini europei, viene concepita la Commissione europea di Bruxelles come poco più di un gruppo, non dirò di bottegai, ma certamente di ragionieri, di controllori burocratici, senza mandato, senza potere effettivo. Io da questo punto di vista devo dire che oggi forse l'Unione europea, anche in vista delle prossime elezioni europee, nel mese di marzo, credo, maggio del prossimo anno, io devo dire che l'Unione europea sta forse veleggiando verso una crisi che rischia di essere strutturale e anche però una crisi dal punto di vista dei valori profondi, quindi anche una crisi direi che riguarda, che investe i fondamenti stessi delle ragioni storiche per l'esistenza di una Unione europea. D'altra parte l'uscita dall'Unione europea con tutti i problemi che sta creando, ovvero del Regno Unito, dell'Inghilterra, già segnala una profonda crisi. e d'altra parte 27 paesi che sono quelli rimasti dopo l'uscita della Gran Bretagna, 27 paesi, questi 27 paesi non sembrano in grado di risolvere un modesto problema che è quello dato dalle immigrazioni extraeuropea. Un problema modesto che potrebbe essere risolto diciamo da un autentico potere europeo semplicemente distribuendo questi immigrati nei vari paesi, da notare, da notare l'assurdità di questa situazione, questa migrazione, questi immigrati sono necessari perché non è che l'Europa sia un continente stanco, eccetera, ma è vero che alcuni paesi europei, fra cui specialmente l'Italia, dal punto di vista demografico, sono in crisi. l'Italia perde circa mezzo milione di abitanti all'anno e il lavoro, l'apporto di sangue nuove cioè dei migranti dai paesi extraeuropei sarebbe, è di fatto, essenziale e del resto chi, chi, non solo raccoglie le olive in Calabria o i pomodori in Puglia, ma chi lavora nelle fonderie del Bresciano, del nord Italia che è una delle grandi regioni industriali dell'Europa. Sono i migranti, i migranti sono importanti, molto importanti da questo punto di vista e invece cosa è accaduto? Che in fondo demagoghi, diciamo, politici che io mi permetto di ritenere per carità con tutte le scuse necessarie, mi permetto di ritenere politici improvvisati, a volte addirittura capocomici che si improvvisano capi politici, hanno costoro, hanno costruito il mito dell'invasione dello straniero, l'invasione, la grande e su questa paura, su questa percezione fondata sul nulla che crea una paura del tutto irreale, su questa paura si sono creati in Italia di recente fortune politiche. Un momento, il voto democratico l'ha rispettato, d'accordo? E' inutile non andare d'accordo non diciamo accendere conflitti con dei risultati elettorali, sono quelli che sono d'accordo, ma intendiamoci esiste un pericolo di tirannide della maggioranza, non basta avere una maggioranza elettorale per ritenere di poter fare quello che si vuole, si entra in una zona d'arbitrio che forse è peggiore di una tirannide classica, perché la tirannide classica è il solo tiranno e dopo tutto la situazione solubile con la famosa istituzione del tirannicidio, una tirannide della maggioranza che io mi permetto e credo di averlo fatto proprio a Narni mi permetto di richiamare quello importante contributo del quarto presidente degli Stati Uniti James Madison sulla proprio nei Federalist Papers sulla tirannide della maggioranza. Noi abbiamo in questo testo veramente la diffida più radicale contro quella che si presenta come volontà democratica ma in realtà è la caricatura e l'atroce negazione del principio democratico. e in fondo non bisogna confondere la democrazia con il democraticismo della conta delle teste come test finale di saggezza. Noi oggi siamo in presenza di una grave crisi. la crisi mi permettevo proprio di ricordarlo a Narni la crisi fa soffrire la crisi fa sanguinare ma la crisi ha anche una funzione epifanica perché squarcia rivela quello che c'è nel profondo quello che non viene detto quello che non viene scritto in altre parole l'emergenza fa emergere l'emergenza fa emergere il problema qual è il problema oggi? Oggi è il problema il nostro problema il problema europeo il problema di cui abbiamo discusso proprio a Narni è quello di andare oltre il mito dello stato sovrano oltre il mito della frontiera riconoscere riconoscere come nel profondo ci siano diritti fondamentali che non possono più essere soddisfatti nella cornice strutturale tradizionale in altre parole qualunque essere si presenti sulla scena del mondo in sembianza umana è detentore di un diritto di umanità fondamentale e quindi noi dobbiamo ormai concepire avere la forza io m'auguro che sorga un capo politico mi vengono in mente uomini come Henry Spock il belga mi vengono in mente anche uomini come il nostro Alcide De Gasperi o Luigi Einaudi un uomo politico capace di capire come bisogna sanare la frattura di oggi che consiste essenzialmente in una tecnologia che è già respiro mondiale planetario al di là delle frontiere e delle forme delle strutture politiche che sono in ritardo e che pertanto creano sofferenze non necessarie creano divisioni che vanno superate impediscono di comprendere come la sola vera grande regola etica che oggi può valere per tutti per i russi come per gli europei per gli americani stati uniti come per l'america latina come l'oriente i grandi paesi Cina Giappone tutti gli esseri umani uomini e donne quale che sia il colore della pelle quale che sia la lingua parlata la religione professata tutti gli esseri umani sono pleno iure pieno diritto esseri umani e come tani vanno riconosciuti accettati e rispettati attra Grazie a tutti.